Un quartiere vestito a festa, è vicino alla sua Santa Barbara, protettrice dei vigi del fuoco e dei minatori. La festa di Santa Barbara ha da sempre rappresentato una festa molto sentita dai residenti del villaggio e caratterizzata dalla grande partecipazione che con grande devozione prendono parte al culto religioso. La festa inizia la sera prima, con la benedizione del fuoco in piazza Sabucina al termine della celebrazione eucaristica. Il giorno della festa, dopo la messa mattutina, nel pomeriggio si svolge la processione per le vie del quartiere dove i devoti al grido di Viva Santa Barbara rendono omaggio alla loro santa. Santa Barbara è legato al mondo dei minatori, infatti il villaggio nasce proprio in seguito all'apertura delle miniere e per tanti anni è stato abitato da minatori che andavano a lavorare nelle miniere vicine. Con la chiusura poi di questi luoghi comunque la tradizione della festa è rimasta grazie agli ex minatori, grazie al comitato profesteggiamenti che è custode di questa tradizione ed è la parrocchia che se ne fa garante. Ogni anno c'è un clima di festa nei giorni precedenti perché celebriamo sempre il triduo in onore della santa, poi il sabato sera la tradizionale vampa o il tradizionale faloco, la benedizione del fuoco e poi il giorno clui diventa sempre il 4 dicembre che vede la presenza di tanti fedeli che anche da altri quartieri della città scendono qui a Santa Barbara per onorare la nostra santa patrona.